Hi people bene gente eccoci di nuovo qua è una bellissima grandissima puntata di un horror per due o qualcosa del genere penso lo metteremo più su giochi indie Dica parli e si metta le cuffie buongiorno ci sono anch'io ok vai New game MoVROK Look Mouse Enter Si a me è il nome però non mi ispira tanto Ciao I am spooky Ma che cosa Ah allora dormi di tutto Thousand room Cosa Mille camere Ma che cosa Non lo so Ok Mi preoccupo Bella porta mi piace Evviva stanza 2 di già Si stanza re evviva Non mi piace la stanza re Ok Ottimo ottimo Bene stanza 4 Si si dai 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 Corri Corri Ti ricordo che nei giochi horror non è tanto anche buono correre eh Non è mai troppo buono correre Si ma io mi inizio a preoccupare Eh perchè Per questa 5 ancora niente non è successo niente Eh pure io inizio a correre Ah adesso c'è pure l'illuminazione che bello Che è bello Poi candele quasi flottuanti mi piacciono Ma perchè ho delle sensazioni di deja vu Eh pure te eh Ok Oh Bella questa serie Da divento anche Aspetta Che c'è da aspettare Entra Bello No 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 Però io non ci vado lì Bene questa musica inizia ad inquietarmi Anche a te vè Bene anche a me Bene 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 Molto bene Non Sacci sua Ok Questo gioco praticamente è fatto stile bambino Ma i jumpscare li sa fare Ma ci sono Ma poi Cioè sarà un cosetto di cartoncino Ma compare all'improvviso Ma mi ha fatto via un coccolone Che bello siamo alla stanza 14 Su mille Tanto che ci vuole Eh Mille Quindici Stiamo lì Sì infatti Perchè Perchè Mo compare qualcosa 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 Vittura Vivi Cacchio Ho paura Tu fai sempre zitto Al massimo mori No No Ok No 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 Dentro Perchè fai sempre zitto Zitto finchè non muore No 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 Ah bene Un altro dice più Che bello Manca un tavolo E' così Allegro vedere delle serie abbandonate a loro stesse Troppo grande succede qualcosa Mamma mia Ancora In modo sape succede qualcosa Perché passa da troppo largo a troppo stretto Non mi piace Ancora Ci sono troppe sedi e troppi pochi tavoli Sì Sono d'accordo Sì Stanza in renta Mamma mia Bene ora è finito giusto? No Peccato Ok di qua Guardate se non mi capita un jumpscare del cavolo guarda Destra o sinistra? Destra Destra Guardate ora Ora compare qualcosa guarda 33 34 Ma poi perchè dice Stanza in renta 4 se è un corridoio? Oddio 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 Ancora cose di cartoncino che mi fanno cagare sotto finito questo gameplay avremmo paura di cose che sia come di cartoncino toncino questo ligno mi è piaciuto di più delle toncine dai su dai per fortuna che avevo girato la testa eh io no però però non è lettera in mano, non sa che cosa vuole magari voleva solo un po' di attento no no non fatemi andare via cos'era quel brutto rumore ma perchè doveva entrare in questo posto perchè non lo so 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 guardate se non compare da mezz'ora che ci fanno ah un altro divento allegro mamma mia no no e basta cambia tappeto mamma mia veramente no 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 ancora che vuol dire a inizio sembra simpatico questo posto ma sono stato qui per giorni per giorni eeeh vabbè insomma se sta rotte bene per questo video è tutto ci vediamo alla prossima si direi che 50 stante sono state abbastanza bene stupide cosa di cattone alla prossima ci so ciao ciao Ciao.